Prende sempre più corpo la candidatura alla presidenza della regione per il centro-destra, la figura più accreditata, pare essere quella del sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna. Secondo il giornale online Il Giunco, a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto, sarebbe ormai cosa certa. Il via libera ufficiale potrebbe arrivare già domani e la presentazione pubblica sabato 30 al Tuscany Hall di Firenze per voce dello stesso Matteo Salvini. Se così fosse, la sfida sarebbe dunque ben definita tra l'attuale presidente del Consiglio Eugenio Gianni per il centro-sinistra e il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna per il centro-destra, che raggiunto telefonicamente non smentisce ma neppure conferma. Dice di essere pronto se fosse chiamato per la causa e che questo renderebbe merito alla sua politica del fare. Numeri alla mano, in attesa della decisione dei pentastellati, il nome del prossimo governatore della Toscana potrebbe essere quello proveniente proprio dalla sfida Vivarelli Colonna-Giani. Ricordiamo che la legge elettorale toscana prevede il doppio turno di ballottaggio solo nel caso in cui al primo nessuno dei candidati superi il 40% dei voti. Una curiosità. Nel caso in cui Vivarelli fosse confermato, si consoliderebbe la tendenza a pescare gli avversari del centro-sinistra tra gli amministratori e politici grossetani, succedendo infatti ad altri illustri predecessori come Alessandra Antichi nel 2005, Monica Faenzi nel 2010 e Gianni Lamioni nel 2015, i primi due per il centro-destra e l'ultimo per una civica. La candidatura di Vivarelli Colonna peraltro non altererebbe la geografia amministrativa grossetana. I bene informati sostengono che la poltrona di sindaco la scambierebbe solo con quella di governatore, ragione per cui in caso di sconfitta rinuncerebbe volentieri al ruolo di consigliere regionale, preferendo terminare il suo mandato istituzionale a Grosseto.